Ciao ragazze, oggi un nuovo video, il video del pacco di campagna 16 Allora, io non volevo spedire praticamente l'ordine, però grazie a una ragazza che si chiama Fabiola che non so se ha il canale qui su Youtube però ti saluto, ciao mi dispiace non farmi vedere, ma purtroppo ho due clienti a casa mia che sono io da adesso e il pacco è arrivato stamattina e non ho avuto tempo, praticamente ho firmato il pacco e poi quando sono tornata 10 minuti fa, il tempo di lavarmi sono un dei due clienti quindi sto avendo solo adesso il tempo di fare il video allora, in questo caso mi sono arrivati due pacchi allora, vediamo il primo allora, io già l'ho aperto per semplificare e vediamo aspettate, perché sono molto molto contenta allora vediamo vediamo i cartacei allora, come cartacei c'è l'errata Corridge poi, catalogo nuovo di campagna 18 poi vi farò i video ovviamente, non vi preoccupate poi 5 cataloghi di campagna 17 perché li ho presi ho detto non si sa mai cioè non si sa mai, ne ho uno però, chissà, magari qualche cliente infatti, visto che ce ne sono due a casa mia dei clienti poi il riassunto ordine che io non l'ho ordinato comunque ah, catalogo di campagna 1 wow, di questo vi farò anche video non vi preoccupate altre cartacei ok ah, un foglio per le presentatrice poi l'anteprima di campagna 1 da ordinare in campagna 17 vi farò anche video poi modulo della dichiarazione dei proti resi ah, un fogliettino questo ve lo leggo gentile presentatrice l'informiamo che a seguito del grande successo dell'offerta promossa a pagina 2 e 3 del catalogo di campagna 15 la fragranza far away bella non è disponibile in questo momento le inviamo pertanto la sostituzione in sostituzione alla fragranza far away tradizionale le informiamo inoltre che se i suoi clienti non dovessero gradire la sostituzione potrà rendere il prodotto seguendo la regolare procedura dei resi nella speranza di averle fatto cosa gradita le inviamo cordiali saluti riporto me marketing apone italia eccetera quindi siccome io ho ordinato un set di campagna 15 non so cosa mi è arrivato vediamo allora poi mi è arrivata l'anteprima di campagna 16 scusate l'anteprima di campagna 18 da ordinare in campagna 16 perché io in campagna 15 non ho fatto ordine poi 8 6 mamma allora aspettate perché sono tutti cartacei allora 5 cataloghi di campagna 18 questi li ho ordinati anche perché appunto aspettate che vedo cosa c'è perché sono curiosa la fattura che si è rotta ah questa è un'offerta per le presentatrici no non è per le presentatrici questa è un'offerta per tutti allora praticamente bisogna creare il vostro set set best seller best seller fragranze 3 prodotti di make up più una fragranza sui tasso di 20 euro ragazzi è un'offerta che le vostre clienti sicuramente non potranno assolutamente perdere ci sono le perle il fondotinta e il rossetto e le tre fragranze rare pearl per vase e celebre vediamo che dice il valore del set calcolato vabbè poi c'è un altro set in caso quello non piace e che polle allora creato set set best seller cura della pelle 3 prodotti make up più un prodotto soltaneo 2490 allora matita glimmer stick nera il mega fx mascara e la palettina purple as è una di queste due la new clinica la defense l'ozione da giorno e la new ultimate crema da giorno vabbè poi c'è la fattura ah poi ci sono le etichette che mi hanno mandato loro che io voglio mettere lì sul sugli ordini poi c'è più niente si blocchettino cartoncino ah tutti i vantaggi diciamo che abbiamo noi vabbè ottimo altri due blocchetti basta adesso devo prevedere prodotti allora mi metto di qua scusate questi 5 minuti allora mi sono arrivati due paia di pantofole con forze sole che sono questi che sembrano blu però in viola poi quando vi posto la foto vedrete meglio ne avevo ordinati tre paia da donna e uno da uomo quello da uomo c'è scritto che lo dovevano di ordinare perché l'ho letto lì nella campagna come si chiama nelle mail quindi questi venivano 10 euro e 90 cioè erano in super sonto che c'è eh fra un po' mamma scusate un altro paio di ciabatte di pantofole poi c'era un set delle maschere queste di adovanzo tecnico che venivano a 7 euro e 52 maschere sono quelle ristrutturanti che le ho prese io 150 ml 2 più la spazzola compatta dov'è? eccola qua che io venderò perché non utilizzo cioè non mi piace 7 euro e 50 poi ci sono i campioncini vabbè campioncini questi sono i campioncini che praticamente avevo ordinato io poi mi è arrivato uno della new crema d'aggiorno e la fragranza far away gold che ho ordinato a spese mie poi mi sono arrivati due sieri per i capelli questi li ho presi anche io che venivano a 3 euro e 50 già sapete qual è però perché non lo sapesse quello apro lo stesso eccolo qui queste siero che erano a 3 euro e 50 le ho presi tutte e due a 3 euro e 50 poi mi è arrivato dell'anel expert il trattamento fortificante lucidante quando non riesco a aprire le scatoline perché non voglio fare niente perché è della cliente eccolo qua è quello rosa io non l'ho mai usato quindi non vi so dire niente assolutamente e questo veniva tra i 99 poi mi è arrivata di color trend questa matita ombretto nella colorazione purple lapis sono quelle matite diciamo non retraibili ecco ed è questo bel viola poi vi posto sempre la foto io su facebook per chi non è fan vi metto sempre io il mio diizio poi mi è arrivato c'era un'offerta per le presentatrici che si poteva ordinare un mascara mega effect solamente per la campagna 15 e c'era anche un come si chiama un ombretto super shock allora allora il mascara mega effect black black che è della cliente che io l'ho venduto a 5 euro siccome aveva bisogno di un mascara e allora eccolo qua io ne avevo ordinato due set però ne è arrivato uno quindi non vi so dire esattamente bene bene le cose quindi non le voglio aprire poi questo è un set cioè sono le perle quelle di campagna 15 che c'era quel set di quello di 11 euro e 90 sono le perle non le apro perché voi le conoscete poi c'è l'esfoliante della planet spa per mani e piedi il shimmering bronze è il 3 in 1 in molti stilo che non so se lo prenderò io vedremo poi due pennelli che ho preso io l'anteprima sono questo ecco qui poi vi imposto sempre la foto e questo è per le labbra cioè è molto 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 piccolino vedete cioè sembrava grande poi poi mi è arrivato un profumo per uomo l'Xeries ve lo faccio ops ho rotto la scalatola come al solito vabbè vi faccio vedere la boccettina molto molto carina questo veniva a 7 ore e 90 poi mi è arrivata una crema da giorno la Yachts Restor che praticamente sarà quella tonificante 2,99 poi questo set Pariur Collier ah questo è un set di collana bracciale orecchine e cortene che venivano 7,90 euro aspettate che ve lo apro questa è la collana molto carina bracciale e le orecchine che venivano così avevo ordinato anche di due set mamma non posso venire ma faccio il mezzo sì ma faccio se mette la calda sì la calda scusate ragazze ma purtroppo devo fare per forza comunque a 7 ore e 90 veniva questo set io ne ho ordinati due come li sistemo io io ne ho ordinati due però non sono arrivati poi andiamo per il secondo pacco ed eccolo qua allora mi sono arrivati i sacchetti questi grandi che mi servono per me poi vabbè la busta che non ho ordinato io e poi non ho capito perché mi hanno conteggiato due profumi ma mi è arrivato questo sì mi hanno conteggiato due profumi far away vabbè comunque far away classico meno male che il 7 era per me quindi meno male anche perché io adoro eppure c'erano anche altre cose che non sono arrivate vabbè questo è il profumo il classico far away gold far away scusate far away classico che prenderò io poi mi sono arrivati due due body illusion taglia L e uno XL allora quello XL è di mia madre body illusion smonte slim body è il body che di uno vi faccio la foto e poi ve la metto là credo che costavano 17,90 poi mi è arrivato uno shampoo che ho preso anch'io in anteprima ed è lo shampoo a macadamia avocado e ci sono vari lampioncini poi c'è questo ombretto super shock vivid nella tonalità glistening teal che è praticamente quello che viene associato al mascara mega effect vedete poi mi è arrivato il magno schiuma da un litro alla vaniglia e figo sarà bellissimo e due colorazioni in anteprima che ho preso questo è della cliente però questo è il crema colorante permanente ad azione schierente con riflessi biondo e poi questo l'ho preso io che farò più là ed è sempre lo stesso che uscire in campagna 2017 crema colorante permanente ad azione schierente con riflessi ramati molto carini ops ed è niente ragazzi questi sono tutti i prodotti che mi sono arrivati e niente subito dopo questo video vi farò anche il video delle anteprime e dei cataloghi ciao ragazzi un bacio e scusate le interruzioni ciao